In via dei priori a Perugia si riparte subito con la Befana Torre. Nel weekend del 6 e 7 gennaio 2018 tanti eventi per l'epifania da trascorrere con noi, dicono gli organizzatori, alla Torre degli Sciri e a Perugia Centro Storico. Sabato e domenica sarà possibile visitare la torre fino alla meravigliosa vista sulla città dalle 10.30 alle 12.30. Da non perdere sabato 6 alle ore 12 la Torre Incantata con il concerto dell'ensemble locale Boxing Fabula e il brindisi augurale. Nel pomeriggio alle 18.30 il finissaggio Seminti Certificate, installazione di Margherita Tati. Domenica 7 alle 16.30 vi aspettiamo per la Torre delle Meraviglie per bambini di tutta l'età. Dalle 18.30 presso Open Space for Arts il finissaggio Slegan mostra in collane in ceramica di Caterina Aquinardi e ritratti fotografici di Giancarlo Pastonchi. Alle 19 la performance musicale dell'ensemble Toristi Apriori.